Alice, Diana, Sofia, Lucia, Marika, Bianca, Agnese, Aurora, Noemi, Perlotta, Giulia, Matilde, Rebecca, Anna Maria, Cecilia, V, U, O, N, N, A, T, L, E, A, O, E, U, G, U, che lettera hai? R. R. E quindi avvicinatevi tutte che non vi piglia. E qui, tutte là, tutte lì, vai! Buon Natale!